buongiorno cucciolina nel mio cuore buongiorno amore tutto bene sei felice si ascolta chi arriva tra qualche giorno isabelle aria e dove verranno isabelle aria a dormire qualche giorno qua perché poi noi ricominceremo la scuola mentre loro saranno ancora in vacanza si ma non a dormire da noi dieci giorni ma qua in italia da noi poi loro verranno ma cos'è ma chi è ma chi è ma te la smetti vieni fuori da lì immediatamente che c'è una super novità e sorpresa per te poi non riderei più oggi allora 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 stavamo allora stavamo dicendo io e vanessa che tra qualche giorno verranno isabelle aria quindi saranno qui da noi qualche notte a dormire con noi e ci sarà un gran caos per mamma romina quindi ho deciso che questo caos e tutta questa stantezza che io che io che io accumulerò in quei giorni la recupererò esattamente oggi qualche cosa nastasia con la pausa challenge e quindi care le mie bambine oggi viene starete buone buone in pausa stop pausa ok così finisco di parlare però questa pausa challenge non sarà dettata da me ma bensì da te e te quindi sia tu che tu avrete a disposizione quattro pausa challenge da fare all'altra concorrente quindi siete pronte dai liberatevi dalla pausa quindi siete pronte dai fate la racconta così passo dalla vorbicetta quindi inizierà anastasia fantastico a mettere in pausa vanessa bene siete pronti dove scappi dove scappi dove scappi prendo il ghiaccio e le tette fatte ah che bello eh ma non si rimpresca un po' guarda 2,3,3 ah grazie no 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 non vieni tutta mia no 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 oddio brucia no 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 noni 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 devo fare liberare quello finito di quello no 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 oddio vai vai noni non aiuto ciao noni ciao oddio che buono ma lo fa soggiare un pochino? no va bene allora stop molla questo giù bravamente così alza la testolina così ok ma adesso stai così eh non puoi muoviati dai ferma così un pochino facciamo dei lavoretti su questa macina questi facciamo diventare la monna alisa va bene? ok così sì 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 brava brava stai ferma un po' così aspetta eh sembra che hai un livido in faccia ma come sei cattiva Vanessa che cosa Anastasia sembra che li hai presi da qualcuno un bel leoncino oh fatti vedere non ti muovere fatti vedere fatti ah non ti puoi muovere per quello non ti riesco a vedere vediamo un po' adesso devi mangiare questo panino ruggendo come un bel leoncino mmm Vanessa mi sa che si vendicherà andiamo a vedere cosa sta facendo Vanessa sì con questa bella fronte color oro e la facciamo pagare Ani? sì Ani? mi puoi truccare? Ani adesso non c'ho voglia dai facciamo domani ah sì? pausa ah chi la fa l'aspetti signorina eh ora mi trucco io cominciamo a togliere questo apriamo Ani questa zunnetta dalle mani ok tolto allora iniziamo con questo non c'ho punto non c'ho punto non c'è questo si mette sotto agli oooocchi che? ah vabbè vero? sta bene iiii buon verissimo grazie lo so eh per favore no molto bello e spagnamo qua no bellissimo ok basta ma è finito ho finito ma è finito sei tranquillo prendiamo queeeesto il 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 è un blush è un blush guardate che bello ah noi 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 modo perché tu lo mette destroyed? ma sono dei materi a vero blanco e lo mettiamo basta mangiare il fila possiamo non mi capito no questo guardate è bello guardate quello viola hai preso lo sai? vai Ani va bene così vero? dai lascia stare i miei trucchi va bene così ok basta buonissimo meno male finalmente grazie vai vai ragazzi a nostanzia piccati i miei trucchi è stato un punto così dolente per me quindi prego adesso io taglio la testa no scherzo io taglio il massimo anche così va bene no? andiamo abbiamo un gioco da fare in scatola cosa stai facendo si si va bene cosa stai facendo sembri una non vedente Anastasia è dimenticato stop oddio mi rompe qualcosa questa è pazza allora Anastasia Anastasia scherziamo eh che poi vi tocca correre no ah Anastasia hai capito no guardate venite ragazzi allora prendiamo questa ciocca proprio davanti questa ciocchettina che ormai ha perso anche il colore non ti puoi muovere dove sono? eccoli 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 però qui ah ne abbiamo ancora una puntina aspetta aspetta che ti do una mano così poi facciamo vedere bene ad Anastasia perché mi sembra che non può muoversi tanto anche se secondo me è talmente terrorizzata che si sta muovendo Anastasia 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 saluta il tuo capello un bacino ciao capello ciao capellino Anastasia non ti puoi muovere ma te lo concedo ciao ok tagliato bene oh perfetto sono dritti finalmente oh finalmente abbiamo i capelli dritti io direi che puoi anche togliergli la pausa liberala liberala ma io resta ancora un po' così vero mamma? andiamo a bere uno sprizzo andiamo a bere uno sprizzo e tu lo sprizzo e non lo puoi bere ho maiato da uno sprizzo adesso prepara uno sprizzo sei bellissima amore no aspetta dai io vorrei bere visto che abbiamo un po' i capelli oh ma che servizio voglio giocare anch'io mi lavi i capelli? dai liberiamola dai stop ancora ancora mi fai di nuovo ciao amore cosa stai facendo? sto riprendo di cercare l'acqua ok paura no Ani perché la mamma si allabbia tanto vanno uno due sei Ani si sta riprendo guarda che il valore si allabbia no no sei da qui sei da qui oddio sei da qui sei da qui no 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 sì 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 Ani mi vogliono Ani che la stagia Ani Ani no eh Ani 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 ok stop ma proprio il mago senti la stagia facciamo questi scherzi proprio sì ok vabbè il taglio dei capelli però è brava bimbe è tutto ok? si ascolta dobbiamo uscire quindi vi dovete preparare così concludiamo questa challenge Ani dove sei? si non ti ho vista eh? non c'è Anastasia non c'è come al solito Anastasia non c'è non la vede nessuno non si sa dov'è forse si nasconde guarda chissà niente 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 e vabbè insomma vai a lavarti tu e usciamo io e te andiamo a lanciarci un bel gelato fresco che è uscito anche il sole va bene? ok però nel frattempo devo prendere il Dyson perché devo aspirare per terra e quindi è qua eccola vai prendi il Dyson solo io ma funziona se io prendo il telefono e dico Alessia prepara uno spritz si in un attimo si prepara uno spritz per magia arriva Anastasia vai a lavarti i denti che dobbiamo uscire e concludiamo la challenge dai Alezza ma noi non abbiamo Alezza e Siri e Siri e Siri ha risposto il tuo Siri preparami uno spritz buon pomeriggio come ti posso aiutare? diglielo preparami uno spritz non mi sembra di aver capito bene perché sei sorda? bravissime le mie bambine però adesso dovete andare a lavarvi perché dobbiamo uscire? ok ok hai eh sto mi fatta vedere tutta l'acqua adesso oh adesso quindi mi sto oh che idea quello ho un po' di piatta si mi piace mi piace? mi piace? va bene adesso sarà la tua prima volta oh si che bello che bello che bello vero? oh mia ti piace? si adesso sarà la canela mi piace tanto e anche più grazie vero? si così puoi uscire perfetta con il trucco guarda guarda bello bello c'è un po' d'acqua fresca ah no se si si aveva un telefono una foto perfetta ma dai tre due uno no no sai che ci u ci no ci piace questo scherzo bello no 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 ci dobbiamo buccioline e buccioline se questa channel vi è piaciuta iscrivetevi al canale attivatevi al canale e lasciate un bel like a questo video ciao maone è arrivata mezzanotte le campane sono in festa voglio spiare papo natale non ci vedo niente di male presto Anastasia corriamo giù ma